Sei tornato in campo dopo il lungo periodo di stop, però non certo la serata che ti aspettava. No, no. Infatti l'unica cosa per cui sono contento è di aver messo minuti sulle gambe. Siamo amareggiati, potevo fare di più io, poteva fare di più tutta la squadra, però il campionato è ancora lungo e impareremo dagli errori che abbiamo commesso oggi. Seman ha detto squadra troppo passiva perché i difensori devono difendere, il centrocampo deve costruire, gli attaccanti devono essere in area di rigore, cosa che non avete fatto. Tutto quello che ha detto il mister, però come ho detto quando ci sono queste giornate che riesci anche ad andare in vantaggio nonostante concedi tante occasioni, deve essere bravo a soffrire da squadra e a riuscire a mantenere il risultato. Cosa mi manca Simone per essere squadra ancora? Secondo me, magari nei momenti di difficoltà, magari difendere un po' meglio, pensare un po' più a difendere e pensare che i tre punti sono importanti alla fine, perché alla fine la cosa fondamentale è vincere le partite. La Serie C è un campionato difficile che anche contro squadre non è il caso di oggi, che però magari mezzo tiro in porta e rischi di perdere le partite.